... Ok, direttamente dal luogo Pena Revaldo estetivamente saluta è il Cibo Maior stiamo di regresso allora oh, gran festival del cambio grazie per l'invitazione mi canale del Cuffi e il signor Francisco in questa Gucci in questa versione stiamo accompagnati dal mio canale, il signor Carlo Soltis Sonido Soltis Javier Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.